buongiorno a tutti ragazzi con questo vi parleremo nel 48esimo episodio di zombie tsunami chissà se sbloccheremo porteremo al livello 3 il gold zombie mi ha una buona visione eccoci qui aspettate con vediamo sta slot perfetto ancora nemmeno uno ne ho raccolto Himalaya perfetto grazie a tutti perfetto perfetto grazie a tutti 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 facilissimo grazie a tutti 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 Perfetto. Tsunami. Perfetto. 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 missione compiuta non 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 perfetto il mecca non 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 soltanto due zombie mi sono rimasti ok ok perfetto dove qui portiamo il gold zombie a livello 3 missione compiuta perfetto e il video di zombie tsunami il 48esimo episodio si può composere qui ok bellissima è stata beh ragazzi sperando che questo video di zombie tsunami il 48esimo episodio portiamo a livello 3 il golden zombie vi sia piaciuto e scarcanami con mettendo un bel like se qui ci stacca e noi ci vediamo in prossimo video a più tanti ciao a tutti ciao a tutti ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti bella rega